Nelle nostre immagini partiamo dal Ventimiglia, una sconfitta un po' inaspettata in quella di Campomorone le immagini, ricordiamolo, sono di dire tantissimo, ringraziamo per questo anche il direttorissimo Claudio Bianchi Claudio Bianchi Insomma, uno scivolone inaspettato che ha permesso al Quiliano di agganciare in vetta proprio i frontalieri La classifica vede Quiliano quindi in testa, con il Ventimiglia Sì, Quiliano Ventimiglia 46 punti, Voltrese e Albisola 42, poi al quinto posto la Caglis che era uscita proprio sconfitta 2-0 nella scorsa giornata dal derby col Ventimiglia si è ripresa benissimo perché la vittoria per 5-1 con la Carcarese non solo ha consolidato la posizione playoff ma permette anche di guardare oltre, magari ad agganciare un terzo o quarto posto che proprio in proiezione playoff potrebbe essere molto utile Quindi il primo posto se lo giocano queste due, Ventimiglia Quiliano secondo te? Sì, poi abbiamo ascoltato anche il presidente Voltrese e Albisola 42, quindi ci sono 4 punti Abbiamo ascoltato il presidente della Cardin Boys, Renato Bersano che è stato interrogato da noi su quale avversario preferirebbe evitare nei playoff fra Ventimiglia e Quiliano perché una delle due arriverà a seconda Questo è inevitabile e lui ha detto sinceramente preferirei al primo turno evitare entrambe quindi arrivare al terzo o quarto posto e giocarsela con Voltrese o Albisola Ah ecco, perché ne salgano poi su due Esattamente E quindi la Cardin Boys ha buone chance Sì, poi vista anche la prestazione di Domenica con la Carcarese un 5-1 netto, stiamo anche vedendo i gol Filippo Scalzi, classe 97, una doppietta entrato così nel mondo del calcio dei grandi con questa prestazione maiuscola ma l'apporto della panchina è stato decisivo Una Carlis che dunque, nonostante le assenze di Daddi squalificato, di Lupo infortunato sta tenendo botta e anzi adesso potrebbe proprio mettere nel mirino Voltrese e Albisola che sono sopra di soli 4 punti Grazie